Esiste in provincia di Cosenza una rete solidale costituita da associazioni di volontariato impegnate nel sociale, in grado di offrire servizi diversificati alle persone in stato di bisogno, cibo, vestiario, assistenza farmaceutica illegale, dormitori. Persino servizi di doposcuola, un sostegno alle famiglie indigenti drammaticamente aumentate negli ultimi anni a causa della disoccupazione dilagante. Ci sono purtroppo famiglie che momentaneamente hanno perso il lavoro, che non lo dicono, non lo dicono neanche ai propri figli, per cui dobbiamo cercare di sostenere questo momento difficile e quindi questo genere di associazioni coordinato può dare una prima risposta di aiuto. Nell'ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo Sostenibile, i rappresentanti delle associazioni solidali si sono dati appuntamento nella cittadella del volontariato di Via degli Stadi a Cosenza. Sono intervenuti tra gli altri Gianni Romeo, direttore del Banco Alimentare, Antonio Tiberi, portavoce del Forum del Terzo Settore, Alessandra De Rosa, consigliere delegata per le politiche sociali di Palazzo dei Bruzzi. C'è tanta generosità anche se le risorse sono sempre insufficienti. Al Centro Servizi per il Volontariato spetta il compito di ottimizzarle e convogliarle verso le persone disagiate. Aumentano i cittadini che in maniera spontanea vogliono sostenere questo mondo, quindi noi cerchiamo veramente di impegnarci a creare degli strumenti anche semplici, per dare da una parte risposta alle associazioni che si coordinano. Dall'altra parte abbiamo tanti cittadini che magari non hanno voglia di coinvolgersi a pieno in un'associazione, ma che so, però sono disponibili a fare una raccolta, ad andare a raccogliere e per altri. Salvatore Bruno per la CNews24